Sono iniziati i lavori anche del centro civico di Gimarra, questo diciamo secondo piano, in quanto la prima parte era già stata realizzata, un lavoro che prevede la sistemazione di questo primo piano appunto del centro e all'interno creeremo delle nuove stanze, precisamente cinque, quattro di cui uno anche è un front office che verrà messo a disposizione della cittadinanza qualora appunto verrà adibito a tutte le associazioni e nello stesso tempo metteremo poi a disposizione anche il ballatoio esterno con dei parapetti che oggi sono mancanti e efficienteremo il tetto in tutto e per tutto, quindi andremo ad aumentare quello che è la parte del fotovoltaico proprio per dare una maggiore continuità e garanzia a quello che è il sistema di riscaldamento ma anche delle economie importanti che verranno a disposizione. Sono 670 metri quadri, uno spazio che sarà completamente accessibile, questo del primo piano, anche attraverso un ascensore, bagni per persone anche normodotate e non e spazi di diverso tipo, spazi una sala lettura, verrà realizzato qui una sala lettura, ma anche dei piccoli uffici per co-working, attività di vario genere che potranno essere effettuati, qui come corsi, spazi per bambini, uno spazio multifunzionale che si aggiunge appunto alla sala di sotto restituito alla cittadinanza che ne ha veramente bisogno e questo è un investimento tra il piano terra e il secondo piano che supera il milione e mezzo ed è un investimento che abbiamo fatto buona parte sulla finanza locale ma siamo riusciti ad avere anche dei cofinanziamenti importanti. Siamo qui nel centro civico di Gimarra dove sono partiti i lavori del secondo straccio che ultimeranno tutta la riqualificazione. Quello che mi piace sottolineare è che questo è il modello che noi pensiamo nei quartieri, degli spazi a disposizione di chi vive quel quartiere per fare attività, per fare progetti e per socializzare. Questo migliora la qualità della vita, questa è la filosofia delle persone, noi guardiamo l'aspetto dello stare insieme, del vivere il territorio e la nostra visione di città dei quartieri è questa, i quartieri delle persone.